La disperazione del papà che stava cercando di rianimare la figlia ma purtroppo nemmeno il nostro operatore con il defibrillatore, con la respirazione bocca a bocca e il massaggio cardiaco non siamo riusciti a salvare la vita alla bambina. Questa è l'immagine che uno dei membri dell'equipaggio della Guardia Costiera intervenuto domenica in Bacan vicino a Sant'Erasmo non riesce a togliersi dalla mente. Roberto Piva mentre tenta disperatamente di salvare sua figlia Cecilia, morta a 12 anni dopo un terribile incidente. Un'onda con tutta probabilità provocata da un lancione Gran Turismo avrebbe sbalzato il barchino su cui si trovava la bambina insieme al fratello di 14 anni, il papà e la sua compagna. Sarà molto dura per loro, specialmente anche per il bambino perché io l'ho visto molto, tremava e aveva gli occhi nel vuoto. Una scena scioccante, quella che domenica pomeriggio verso le 17.30 si sono trovati davanti i vigili del fuoco, Guardia Costiera e Suem 118 giunti sul posto dopo l'allarme. Nel giro di 4-5 minuti ci siamo trovati sul posto e abbiamo operato subito con il defibrillatore, con il nostro operatore BLSD che avevamo a bordo. Nel frattempo quando siamo arrivati abbiamo visto che c'era già il papà, si presupponeva che fosse il papà di questa ragazzina che stava praticando il massaggio cardiaco. E niente, dopo a seguire sono sopraggiunti i mezzi della questura, la PL dei pompieri e l'ambulanza. Cecilia sarebbe morta durante il trasporto in ospedale per aver perso troppo sangue dal braccio colpito probabilmente da un'elica. Ora sono in corso le indagini condotte dalla Capitaneria di Porto per chiarire eventuali responsabilità e le velocità dei mezzi che transitavano in quel momento. Ma questo incidente riapre la questione del moto ondoso, dei limiti, del traffico acqueo. Esistono dei limiti che evidentemente non tutti li rispettano, e specialmente con le barcazioni di piccola stazza, questi limiti sono fatti più per loro perché un barcone di gran turismo non ha problemi. Sono le barche di piccola stazza che vengono sbattute da destra e sinistra dalle grandi onde che fanno. Bisognerebbe avere tanto più rispetto delle persone, della gente che ci naviga in laguna e avere un attimo di correttezza e di pensare al prossimo perché ho capito che le onde anomale ci sono, però se uno va in velocità sostenute e succedono questi impatti e succedono queste cose qui non si può fare a meno. Se uno mantiene una velocità moderata e comunque sta attento a tutto quello che concerne il codice della navigazione, magari diversi incidenti del genere si potrebbero evitare tranquillamente.